Oh, sei in registrazione, occio, 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 sei in registrazione, è bellissimo, ciao, ciao Alberto, ciao Alberto, saluti, saluti, non so che hai, quante carri, Cristo va che roba. Questa volta qua li vediamo bene, Elena, questa volta qua ti tirano il bouquet, quindi automaticamente entro sei mesi ti sposerai, non penso Alberto, a meno che non mi lancino anche una signora a 50.000 euro. Ma va, stai tranquilla, credici, clicca mi piace e credici. Guarda, guarda come è pilota, guarda come è pilota. Ciao, ciao. Ciao, 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 saluto Alberto, saluto, saluto, ciao. Ciao, ciao. Siamo in pole qua, non puoi dire niente. Sto aspettandosi. Ciao. 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 Ciao.